Vedi la verde dentro di canale Entra la tv, entra la tv Vedi la verde dentro di canale Vai, 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 eccolo lui già Massa quanto sei alto Altissimo, altissimo, altissimo Mentre la tv, entra la tv Vedi la verde dentro di canale Entra la tv, entra la tv Ti lascio il palco, senti? Sì, dai, così ci ripostiamo un po' a un vicenda, no? La facciamo a cappella Rigorosamente live Senza musica, vediamo, così li sentiamo? Sì Mentre la tv Sì, seriamente, volevo dire Sì, seriamente, perché io veramente Con la scuola di ballo dell'Auptel Hauser di Ancone Collemarino Che ha sede davanti alle 13 cannelle Che ci presenta un'esibizione di baciata, di salsa e rueda Diretta e coreografata Che è? Manda il bacio questa La baciata La baciata La salsa Coreografata e diretta dai maestri di ballo Riccardo e Liviana Il video di questo spettacolo, già esibito al Teatro Sperimentale di Ancone È stato scelto da Salsaton Tra i migliori video presenti su internet di balli caraibici Di balli caraibici Forse si diceva Salsaton Salsaton Mi sa, però mi ero un po' distrecciato È come il reggetton Ok, siamo pronti per accogliere con un grande applauso La scuola di ballo dell'Abtelhauser di Ancona Eccoli qua Eccoli con la camisetta bianca, la camisetta nera Eccoli qua La balea La balea Isabella Quien acerco Quien acerco Quien acerco Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.